Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, sale in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo si compirono per lei i giorni del parto. Dede alla luce il suo figlio, primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che pernottando all'aperto vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro. Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lo dava a Dio e diceva, gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama. cari sorelle, cari fratelli, c'è un rischio quando si parla del Natale di cadere nella retorica dolciastra creata dall'atmosfera di luci e colori, di canti e musiche, a volte più da discoteca che da clima natalizio, che per quanto belle per alcuni rischiano di prepararsi a far festa senza il festeggiato. Per questo vi invito ad una triplice interrogazione che ci aiuti a meditare sul vero significato del Natale cristiano. Perché il padre manda suo figlio a farsi uomo a vivere e soffrire con noi? Perché questo bambino è così diverso dagli altri bambini? Ma poi questo bambino vuol diventare come noi e uno di noi? Carissimi, quando in una famiglia nasce un bambino o una bambina, ci sono i tempi di accompagnamento, l'attesa, il parto, l'allattamento, che costituiscono un'importante esperienza per tutta la famiglia. e se ci sono già dei fratellini e delle sorelline, questo nuovo evento li spinge ad attivare tutte quelle attenzioni che li rendono piccoli padri e piccole madri. Si tratta di ritrovarsi in un modello di amore donato, che nello stesso tempo testimoniano l'amore ricevuto dai genitori. i bambini proiettano in questo modo la loro percezione dell'essere amati dai più grandi. Ecco allora, qualcosa di simile si attiva nel Natale. Il bambino Gesù, davanti allo sguardo e nelle mani dei bambini, costituisce il simbolo dell'affetto ricevuto e attiva in loro l'amore da donare. Il Natale suscita questa carica affettiva. Quel bambino da carezzare costituisce pertanto lui stesso una memoria e una garanzia della certezza di Dio per ciascuno di noi e un segno del suo amore giunto a farsi piccolo per noi. L'Apostolo Paolo, nella seconda lettura di una delle messe che possiamo scegliere per la notte e per il giorno di Natale, scrivendo al Vescovo Tito, ci esorta con queste parole. E' apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e a vivere in questo mondo nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. L'Apostolo Paolo vuol dirci che la fede cristiana può e deve manifestarsi nella realtà di questo mondo perché nel concreto della vita è la conoscenza della manifestazione di Gesù Cristo. Questo stile di vita rende possibile la visione dell'amore di Dio in Gesù Cristo. Anche noi possiamo diventare una carezza per il mondo, un segno di novità di amore autentico nell'attesa del ritorno del Signore. Tra il primo apparire a Betlemme e l'ultimo siamo noi, se accogliamo questa grazia, il segno della presenza dell'amore di Dio nel mondo. Allora Natale è veramente la festa con il festeggiato, dove sapremo donare un sorriso che è via e anticipo di un perdono atteso. Dove ci saranno momenti sinceri di riconciliazione con Dio, con le sorelle e con i fratelli. Dove alla festosa mensa del Natale ci sarà sempre un posto per l'affamato ignoto. Dove alla cultura di morte e di banale indifferenza, che caratterizza a volte la vita di molti giovani, ci sarà uno slancio di ripresa, di entusiasmo, un gusto di conoscere e vivere una vita impegnata e donata. Dio è conosciuto, amato e seguito, se sapremo diffondere attorno a noi i segni della carezza di Dio e le manifestazioni di una vita diversa, nuova, autentica, che testimoniano come Dio per primo ha voluto posare la sua mano, mano del tenero bambino Gesù su ciascuno di noi. E allora carissimi tutti, buon Natale nelle vostre famiglie, dove principalmente si possa sperimentare la tenerezza del mistero dell'incarnazione, il Dio fattosi uomo, l'Emmanuele, il Dio con noi. Sì, un Dio che si fa uomo perché l'uomo e la donna se lo accolgono, si aprono al Divino. Solo così è Natale e possiamo dirci l'un l'altro Buon Natale. Buon Natale Buon Natale Buon Natale Grazie a tutti.